questo sono io preso in un fermo immagine a caso mentre quello che andrete a vedere tra poco è una conversazione tra nonna e nipote che è talmente tanto caotica che mi stavo dicendo addosso da ritare insomma via la clip a quello molecolare quello molecolare qual è quello nasa e gola si qual è quello molecolare la segura ti sei fatto quello rapido cosa ora ho capito ho capito si senti allora lo devi andare a rifare un'altra volta sì la devo andare a rifare un'altra volta sarebbe meglio con le quali calette videocamere ma chi c'è di contenuto c'è nessuno sono sul sito di incontri va bene va comprando il volume allora ma non capisco perché lo sai ma scusa no dai sai chi c'è quel ragazzo che abbiamo visto l'altra sera no non c'è nessuna un sito di incontri scusami a fargli sentire che non sei che non sei di pisa non sono di pisa sono di verona signora complimenti per verona ma non posso che che racconta nonna vabbè nonna quindi non lo farebbe passamela qua deve fare anche vittoria il tampone anche io tutti vittoria viola viola devi essere un attimo seria per favore ma solo serie ma le cose non sono andate a finire non ma io ti ho detto le cose che devo dire cosa ti cosa vuoi sapere di più stop non è difficile su ho capito ora però io ho sentito alla televisione che il tampone lo fanno anche nelle farmacie devo andare dalla dottoressa a dirvi che cosa di una dottoressa a dirgli la bimba sta male c'ha la febbre alla bimba la bimba la bimba possa dire dottoressa guardi la bambina così così no non viene ha chiamato ha chiamato ma non poteva parlare io io non so cosa dire sono stata dieci minuti in chiamato alla minonna 22 premi nobe comunque